Il trono del boss è libero da quando ammazzarono Cicillo, una sera di ottobre del 2009. Lo uccisero alla periferia di Monte Sant'Angelo. Quattro colpi di pistola in faccia e esecuzione di stampo mafioso. Finì la leggenda. Cicillo era il capo, assoluto, incontrastato. Il capo della famiglia Libergolis, che negli anni 70 dichiarò guerra agli Alfieri e a Iprimosa, le famiglie alleate per spodestare Libergolis. Cicillo e suo fratello Pasquale diedero l'ordine di farle fuori. 40 morti ammazzati. Tutto cominciò per la contesa di un pascolo, poi l'estorsione, le rapine, la droga. La corsa al trono del boss ha una storia di nove anni. Da quando sul trono, dopo la morte di Cicillo, passò il nipote, Franco. Eredità contestata, iniziò un'altra guerra. Vinse più battaglie Angelo Notarangelo, detto Cinta Red, conquistò il trono e il territorio insieme alla sua famiglia, fino a quando lo ammazzarono, una sera di gennaio del 2015. Prima lui, poi il fratello, il nipote, il cugino. Le pagine della storia della mafia garganica parlano di scissionisti, uomini spietati, due su tutti candidati al trono del boss, Marco Raduano, detto Faccia d'Angelo, e Girolamo Perna. Spiccono su tutti nella mappa della mafia ricostruita dagli inquirenti. In palio c'è il controllo del territorio per lo svolgimento delle attività illecite ed in particolare per lo spaccio di sostanze stupefacenti sulle piazze locali. E' scritto nelle pagine della direzione distrettuale antimafia di Bari. Il contesto è di chiara matrice mafiosa, circoscritto da una violenta guerra.